Quindi tu l'hai sempre saputo di non essere mio padre? Non ho detto mai nulla a nessuno. Neanche a Sonia. Per quale motivo? Non volevo perderti. Non mi avrebbero mai dato l'affidamento. Se fosse volta fuori la verità. Perché me lo stai dicendo ora? Perché so di aver sbagliato. Non sono riuscito a darti quello di cui avevi bisogno. Ma se non l'ho fatto è perché sono un uomo mediocro. Ma non perché non sei mio figlio. Scusami. Non ho bisogno delle tue scuse. Io avevo bisogno di un padre. E tu e Sonia me l'avete privato. Con le vostre bugie. Io ci ho provato, Francesco. Non è bastato. Non è bastato. No. Grazie a tutti